benvenuti ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi oggi ragazzi mi sentite anche le mie scoppie di ragazzi oggi ragazzi vi do l'oro scopo della mila e 22 ragazzi 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 però vi metterò la foto per ogni segno e vederò il segno che dirò ragazzi per primo ragazzi partiamo dal segno dei pesci ragazzi dal segno dei pesci ragazzi grazie a tutti ragazzi ora tocca al segno delle leonea nemmi ragazzi 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 Forza ore ragazzi, for che hallo segno di nuova macchia, l'acquario ragazzi. Ora ragazzi, tocca a segno di mio partendo, cioè gemelli. Tocca al segno del tour, che è mia sorella, ragazzi, niente solo. Da ragazzi, ora tu, tocca a segno del Scorpio. Ora ragazzi, tocca a segno del Scorpio. Ora ragazzi, forza ore ragazzi. Ora ragazzi, tocca al segno, all'ultimo segno, quello che è importante. Ecco lì, mia madre, c'è la Vergine, ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti